Ciao a tutti! Ma funziona il microfono? Su Tecosmorsa no. Allora funziona. Non ho neanche il programma aperto. Ma per adesso usiamo quello un attimo dai. Comunque, infatti possiamo anche chiuderlo. Ok. Figgata che è il microfono. Per questo si sente bene. Che marca è? Sono della Omen. È quello che fa anche il PC, appunto. Sì. Betta che vuole, retta che vuole là. Tanto, comunque, per adesso non ne uso più. No. Comunque, adesso siamo qua sul mio canale e siamo sui 106 iscritti. Quindi, aggiornato per una settimana fa, perché poi è una settimana che non ho più guardato. Comunque abbiamo... Un bel top dei video. Abbiamo fatto sì. Questo qua è quello che ho buttato fuori recentemente, questo qui. Come si è concluso la Skyblock? La Skyblock si è conclusa che siamo riusciti a finire. Però non si è visto. Però non si è visto perché ho avuto problemi. Comunque è finita bene e poi mi sono suicidato per chiudere tutto. Mi sono lanciato di sotto con tutta la roba più preziosa e abbiamo chiusato. Comunque, poi vi faccio vedere una roba. Questo, possiamo chiuderlo. Qui abbiamo, aspettate che mi è passato di là. Abbiamo uno, due, e tre. Che io sappia che possiamo entrare in multiplayer. Questo qua sinceramente non ho ancora guardato. Però... Spiegami perché hai preso Watch Dogs 2. Così perché... Lo zio ha carina roba a casa. Eh. Per quello. Va va. E perché GTA? GTA perché è puro schazzo. Non fai niente, vai in giro. Scarsi. Scarsi la gente. Puro schazzo. Scarsi tutto. Si, scarsi anche la gente. Comunque, praticamente, cosa è successo? Visto che siamo arrivati ai 100 iscritti. Adesso siamo a 106. Adesso faremo apparire da qualche parte... Il concorso. Il concorso. Tipo... Qua. 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 Là dietro. Là dietro di lui faremo apparire il concorso. E dove chi vincerà verrà ospite in una delle tre serie. che poi ci metteremo d'accordo. Comunque potrete decidere la serie che volete. Se volete fare Minecraft su The Forest oppure GTA. Ah. Per pc ovviamente. Perché sulla plan si può connettere. E mi fate sapere quale volete. E ci organizziamo per aprire l'online e il server in caso di Minecraft. Andiamo a trovare un bel serverino. Il multiplayer. Questo lo mettiamo da parte perché devo ancora fare le prove ufficiali. E comunque questi tre qua vi assicuro che funzionano. Quindi sceglietevi quale dei tre volete. Noi consigliamo Minecraft. Minecraft perché si può fare. Cioè. Cioè. Qualcosa più bello insomma. Per costruire qualcosa insieme. Si esatto. Facciamo qualcosa insieme. Poi magari lo mettiamo su un server online. Lo carichiamo online. Fra quel modo che tutti possono accedervi. Sto provando adesso ad entrare nella Redcraft. Quindi che è un server veramente fighissimo. Appena arriviamo. Appena arrivo ai 500 iscritti. Posso entrare nella Redcraft come membro. Partecipante ufficiale. E quindi posso avere accesso a tutti i database del server. A tutte quelle cose lì. E quindi probabilmente. Ci entrerai vero. Cosa? Ci entrerai vero. Questa puoi già entrare. Volendo. Fai le domande di iscrizione. Puoi già entrare. Ma non c'entrò. Un canale di Minecraft. Vabbè. Non si sa mai. Non puoi avere. Non si sa mai. Comunque. Niente. Fatemi sapere. Quale volete. Poi noi vi contatteremo. Faremo uscire il nome del vincitore sotto nella. Nei commenti. Commenti sì. O fare un video a parte. O fare un video a parte. O fare un video a parte. Come programma. Come fai estrarre il vincitore. Come vincitore. Noi estraiamo con. Vediamo se l'avevo già salvato. No. Mi pare di no. Che era comunque. Forse. Si. Eccolo qua. Lo facciamo adesso in diretta. Vediamo se funziona. Bene. Ah ah. Arriva le rinforze. Ecco. Poi ditemi. Grazie. Ve rinforzo ancora. Grazie mille. Grazie. È arrivato il salame al cioccolato. Yeee. Questo è già un 100 iscritti. Comunque. Proviamo a vedere come funziona questa storia qua. Che storia? Tu l'hai già fatto. Si. Quindi. Vediamo un attimo come funziona. Lo facciamo adesso a sto punto. Dai. Estraiamo adesso gli iscritti. E vediamo. Come fare. Eh. Dei mettere il link di un tuo sito qua. Di un tuo video. Allora. Andiamo a pescare un mio video. Che video facciamo? Direi. Vediamo. Ok. Un video con più commenti. Il video con più commenti. Vediamo un attimo questo. Non mi ricordo. Uno, Due, Natale, Winner. religionadonna. Vediamo un attimo. Eccleunun. Questo qua, con nuove commenti, dai. Eh beh posso vincere solo io ? Sì dai. Ma comunque poi... Giesso non abbiamo tanti, sinceramente... tanti commenti, concentrato? forse qua vediamo. questo video qua comunque quattro commenti solo vabbè niente comunque queste cose video voi dovete come vi facciamo vedere noi inseriremo quale numero l'urla il codice inseriremo il video appunto poi premeremo questo tasto magico qua e ci in teoria ci riusciranno tutti non so come funziona raga non ho mai usato lui è lui che l'ha usato è lui che spaccia canali su youtube di genere un commento a caso sotto uno dei video perfetto quindi prova tipo cerca un tuo video a caso allora prendiamo che ne so questo prendiamo quello da 9 facciamo un esempio zitto perché non si sente l'audio what fear fiction what fiction bug vabbè se non si sente adesso comunque noi prendiamo la urla di per esempio questo video e gli diciamo così poi dire premiamo il tastino magico numero di commentatori come città quindi adesso cosa dovrebbe succedere va bene comunque cercheremo di risolvere il argoli su ricerca arancione inizia lotteria scegli un vincitore faccio una clic sul brusciante start dove è stata? dove è start? inizio, ecco lì, inizio lì ok qua, scegli l'altro vincitore per passare più, vabbè vediamo cosa succede tu 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 tum 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 dove sta? a caso ho proprio fatalità lui, eh? il primo era nascita di una farfalla quindi funziona così voi lasciate scritti sotto l'ultimo video che ho pubblicato che è stato il secondo rischio, ciao ciao. vi tolto che dovrebbe appartiene nella vostra lasciate sotto questo video il commento cosa lasciamo? hashtag partecipo al concorso voglio partecipare voglio partecipare voglio vincere il concorso lasciate un commento poi noi estrarremo i vincitori il vincitore o i vincitori in caso comunque uno dopo non possa abbiamo le riserve come la calcio per esempio premendo qua diciamo un altro vincitore vediamo cosa succede c'è qualche una macchina non ci raccomando dove le messe si riuscita un altro vincitore quello gli sarà la riserva comunque funziona così e noi saremo l'urde di questo video che uscirà adesso è uscito comunque e il vincitore poi lo segneremo in un video a parte quindi lasciate scritto sotto voglio partecipare partecipo voglio vincere voglio entrare in questo server appunto così e vediamo chi sarà il vincitore nel giro di massimo se riusciamo a organizzarci un paio di settimane uscirà il video con l'ospite quindi ragazzi via con i commenti commentate da adesso quindi questo funzionerà così e niente per questo video è tutto vi ricordo di commentare per vincere il concorso iscrivervi fare iscrivere ai vostri amici e dirgli di commentare se vogliono ovviamente vincere il concorso anche loro può sistemare dopo grazie si adesso però io vado letto si ciao buonanotte arrivaci la porta ok commentate iscrivetevi lasciate dei like e condividete a tutti quanti ciao ciao Cos'è? Cos'è a casa? Facciamo un video di Minecraft in velocità.